Finalmente è arrivato il giorno di San Bastiano, siamo pronti, una comunità tutta qui presente, tanti turisti che arrivano dall'est, dall'Italia, gente immigrata che ritornano al paese per questa festività. Questa è una giornata non solo di fede, è di tradizione, di storia e di cultura. La gente ama questa giornata, vive quasi 365 giorni per arrivare a fare festa per San Sebastiano. È una gioia per tutto il paese, quando è festa e quando è festa in un paese sicuramente si respira un'aria bella. Ancora qui persistono i valori perché noi prima abbiamo girato con le nostre telecamere, nelle famiglie, non c'è famiglia che fa le zeppole, il zippole in dialetto, il bicchier di vino, l'accoglienza che ti invitano a tavola. Ecco, questi valori ancora questo paese ce l'ha. Questa festa vive proprio dell'accoglienza, in tutte le case si fanno le zeppole, ci sono le botti di vino che si aprono proprio per San Sebastiano e ancora dobbiamo aspettare la serata perché stasera sicuramente ci sarà in tutte le famiglie, ci sarà zeppole, vino e altro per tutti. Perché è bello vivere, festeggiare, ma si ama proprio festeggiare insieme, insieme con tutti gli altri, con tutti gli ospiti. Ecco, siamo quasi pronti per la partenza anche quest'anno per venerare San Sebastiano. Sì, anche quest'anno torniamo insieme come comunità a festeggiare il nostro santo patrono San Sebastiano. E quest'anno è una grande gioia perché comunque è la prima volta dopo tre anni che festeggiamo San Sebastiano nella sua chiesa che è stata appunto ristrutturata, quindi adesso è un grande gioiello. È una festa importante perché tutto il paese oggi è unito, quindi c'è una grande aggregazione sociale e religiosa. Per cui è un momento in cui la comunità si riunisce ed è in festa per il suo santo patrono. Adesso andiamo in un terreno che è della parrocchia, dove lì ci sono colpiti negli anni tante alberi di quercia e ogni anno si sceglie un albero più grande per tagliarlo come devoluzione, ma in particolare per ricordare il martirio di San Sebastiano. E ognuno di noi porterà un pezzo di questo albero che metteremo in questo grande fadolo. Poi oggi abbiamo anche la gioia per il nostro vescovo Giuseppe, che per la prima volta è in mezzo a noi e dopo la Santa Messa sarà benedetto questo grande fuoco a ricordare il martirio di San Sebastiano. Grazie.